Ben trovati a tutti voi. Oggi tratteremo un altro caso di accertamento induttivo che ha però delle caratteristiche particolari perché sotto questo profilo è intervenuto il legislatore a sistemare una materia che stava diventando pericolosa e ha fatto una norma interpretativa rispetto a situazioni che hanno frenato l'accertamento induttivo. Parliamo degli accertamenti della plusvalenza per la vendita di terreni edificabili. Voi sapete che la vendita di beni immobili nell'arco dei 5 anni determina una plusvalenza per la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita. Nella situazione relativa ai terreni edificabili questo presupposto non è legato al tempo, cioè la plusvalenza va pagata indipendentemente dal tempo solo in relazione al valore. Che cosa succedeva però? Che un atto di compravendita poteva essere rettificato ai fini dell'imposta di registro. I soggetti tenuti a fare l'imposta di registro sono sia il venditore che l'acquirente e quindi siccome l'imposta di registro è al 3% automaticamente succedeva la circostanza per cui c'era anche un interesse di andare ad adeguare quella posizione sull'imposta di registro perché la percentuale era minima mentre la plusvalenza ai fini IRPEF la deve pagare solo il venditore. Quindi anche se l'acquirente andava a determinare l'imposta di registro e quindi a riquantificare il valore del bene venduto, questo elemento veniva utilizzato ai fini dell'accertamento della plusvalenza ai fini IRPEF anche per il soggetto che a quel procedimento non aveva partecipato. Siccome era un accertamento induttivo molto pericoloso è intervenuto il legislatore con l'articolo 5,3 del decreto legislativo 147 del 2015. Ha stabilito che, sintetizzo, si interpreta nel senso che le gestioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione del trasferimento di diritti reali sugli stessi. L'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, come dicevamo prima, ovvero ai fini dell'imposta ipotecario o catastale. Quindi sostanzialmente non basta più una definizione ai fini dell'imposta di registro per calcolare la plusvalenza ai fini IRPEF, perché un soggetto che non aveva partecipato a quel procedimento rischiava di pagarne le conseguenze. La domanda è il fisco, si è adeguato sotto questo profilo? Dalla mia esperienza vi dico di no, c'è stata anche una circolare interna, che poi tanta interna non è perché è nota a tutti, sulla base del quale il Ministero delle Finanze ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di adeguarsi e di valutare la sussistenza dei presupposti, perché non è che non si possa più accertare, non basta l'elemento nato al solo fine dell'imposta di registro, ci vogliono altri elementi, vendita di altri terreni in zona, atto di compravendita di provenienza, ci vogliono elementi forti che determinano che quel valore di quell'atto di compravendita non è un valore reale. Sotto questo profilo è intervenuta pure la Cassazione, con una pronuncia recentissima, che è la 24.857 del 5 dicembre 2016, che ha stabilito che deve essere annullato l'avviso di accertamento, che il fisco non ha annullato in autotutela, che ha posto come fondamento dell'accertamento la sola rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro, senza costruire altri parametri di elementi. Quindi diciamo che dove non arriva la legge, dove il fisco non intende ascoltare la legge, le eccezioni dei contribuenti, fortunatamente ogni tanto la giurisprudenza della Cassazione riesce a ricondurre ad unità questo ragionamento. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.